Evita persone che mandano energia negativa. Eh sì, cerca di trascorrere più tempo con persone positive, naturalmente, ma quando sei costretto a frequentare persone negative come ti devi comportare? Intanto devi stabilire dei confini chiari. Quando qualcuno supera i limiti con comportamenti negativi devi essere assertivo. Poi ti devi focalizzare su argomenti positivi, cerca di trasportare la conversazione per quanto difficile possa essere su argomenti costruttivi. Ovviamente se si lamentano non deve passare l'informazione da quest'orecchia a quest'altro, deve proprio fare il giro della testa. E poi mantieni sempre una prospettiva positiva, cioè crea proprio uno schermo per quanto le informazioni negative, le energie negative possono arrivare dall'esterno, tu devi mantenere sempre una sorta di neutralità o comunque una focalizzazione su quello che a te piace e in questo modo non darai potere alle persone di farti irritare o di tirare giù la tua energia. Ricordatelo.